Musica Hello guys, Ragnar here, benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Allora, praticamente in questa puntata vi volevo dire che non faremo nessuna sfida Perché non faremo nessuna sfida? Dove cazzo ho il call? Qui, perfetto Perché ho bisogno di farmi un'alimentazione per la nostra batteria qua a casa Per la nostra battery box Vabbè, quella Per la nostra battery box sufficiente Che, vabbè, finirò l'MFA però, perché ve l'ho promesso Comunque sono andato in miniera Ho trovato un po' d'oro, un po' di ferro che sta qui a cuocere Lo vedete E nulla, vediamo un pochino di fare tutto quanto Allora, mettiamo questa roba a posto Innanzi, innanzitutto mettiamo questa roba a posto Perfetto, perfetto Allora, abbiamo assolutamente, dobbiamo fare assolutamente, assolutamente Dei solar panel Quindi, prendiamo Due Almeno facciamo un'altra due Quattro ne abbiamo fuori Quattro? Fatemi vedere un po' Aspettate prima di tutto Voglio abbassare il volume Perché c'è l'audio della lava che mi infastidisce Sono quattro E due sei E... Dovremmo farne Dovremmo farne quattro in totale Ma non so se riusciamo con Con il tutto Vabbè, allora Intanto Mettiamo a Macerare 12 di questi Ci perderà una vita e mezza Però probabilmente Ce la faremo Si spera Ok Intanto andiamo a fare l'M F E Allora, fatto così Machine Block Lo mettiamo qui in mezzo MFE MFE Che terremo qui per il momento Perchè finchè non abbiamo una buona produzione di tutto Non ci torna per niente utile Allora, andiamo a vedere intanto Solar So 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 Solar Bona Solar panel Allora, qua abbiamo Dobbiamo Cuocere un po' di coal Cioè di copper Scusate Qua abbiamo altro copper Copper Perfetto Dobbiamo smacerare un po' di copper E un po' ne dobbiamo cuocere Perché, 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 perché Perché c'erano un sacco di cavi Per fare tutti questi Bellissimi circuiti elettrici Quindi dobbiamo fare Per farne quattro Dobbiamo fare due Otto circuiti elettrici Giusto? Perché sono due Dobbiamo farne quattro Quindi sì Sono otto circuiti elettrici Quindi questi vanno qua Questo va così Intanto iniziamo a mettere le cose in mezzo Ci manca anche la gomma Perfetto Siamo proprio in the merd Andiamo a prendere la gomma Abbiamo un po' di cibo Da pappare No, non abbiamo un cazzo cotto Di qua abbiamo qualcosa cotto Ehm, no Ehm, pane Ok Ehm, nient'altro Boh, mettiamo Mettiamo a cuocere Le nostre potatoes Ok, detto questo Mangiamo Perché non si sa mai Va a finire Che poi schiattiamo E la cosa non mi piace Ovviamente 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 Ehm Le sfide riprenderanno Dalla prossima puntata Quindi bro Ehm Tranquillamente Mi Venite A A scrivere qua sotto Nei commenti Le sfide che volete vedere Nella prossima puntata E noi Cerco E io cerco di accontentarvi Ovviamente Sempre Facendo delle sfide Ehm, facendo delle sfide possibili Per quello che è il momento Ehm, in cui stiamo giocando Vi ricordo Che Prima di tutto Andiamo a vedere la turtele La turtele Ehm, che stavo dicendo Che stavo dicendo Che cazzo stavo dicendo Dove è la tarto Ah, lì C'è la cesto C'è la cesto C'è la cesto Ah, cazzo Adesso è ferma Aha E come facciamo? Come facciamo? Toru Tutu Tutu Mmm Ci devo scendere Scavando Ovviamente Romperla E rifarla Ripartire E beh, lo faccio dopo Offline Off camera Così Mi concentro in silenzio Se non va a finire Che faccio Prush E muoio E non ci piace Far prush E morire Allora, mettiamo questi sticky In the extract Qua non ci abbiamo più un cazzo Datemi del call Datemi del call Urgenza call Proprio Via Ok Qua sta macerando Che la bellezza Bravissimo Qui basta Questo ne abbiamo un po' Dobbiamo cuocere un po' di ferro Ehm Dov'è il nostro ferro? Scusate Quello che avevo cotto Qui Perfetto Allora Ne dobbiamo cuocere Ehm Sedici No Otto 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 pezzi? Mh Sinceramente Non lo so Allora Iniziamo Intanto Ehm Facciamo Smaceriacchiare Li mettiamo qua Mettiamo anche questi altri sette copper Questi li facciamo diventare Dei cavi Che poi ne escono solo sei Vabbè Non fa nulla Ok Ehm Questi Aspettate Ce li prendiamo così Facciamo così E li Craftiamo in questa maniera qui Che mi sembra più che ottimo Benissimo Allora lasciamo qua il tutto Buono No 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 Così Benissimo 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 Qua la nostra coal Qua la nostra roba Qua la nostra resina Ottimo Ottimo Ottimissimo Perfetto Facciamo Facciamone fare almeno uno Riusciamo a farne uno No Ci serve ancora Più cavi Più cavi Più cavi Più copper Più cavi Più copper Più copper Più cavi Ma se non mi Se non va E non inizia a Smacerarmi il copper Non possiamo fare più un cazzo Quindi ci tocca aspettare Purtroppo Quelli che sono i tempi Dei nostri Maceratori Eccetera 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 Allora Intanto andiamo a vedere Un po' su ci dovrebbe essere Il nostro cagnolino Ciao cane Cosa guardi cane Oh Lava Voglio sedermi con te Uff 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 Che bello Il nostro cagnolino Non so Come lo possiamo chiamarlo Lo chiameremo Pippo Il nostro cagnolino Pippo Pippo Si ci sta Oh Goofy Oh signore Oh quanti bei ricordi Allora Io direi Di staccare Quasi quasi Faccio cuocere tutto E ci vediamo appena Abbiamo Ho cotto un po' di roba Faccio cuocere anche questa tin Perché se no Non abbiamo tin Per fare le Le rintintin No a parte di scherzi Non abbiamo tin per fare Come si chiamano Le pile Le pile bro Le pile Le pile Le pile Le pile Le pile Va bene Quindi A dopo Ok guys Allora Ho fatto andare Un po' Il nostro tutto Mi è finito il coal Nel Nel generatore Quindi ce la dobbiamo Per forza rimettere Qua andiamo a fare Guardate quante Copper Quante copper Dust E quanti Quanto copper In generale Abbiamo 24 pezzi di copper Quindi a voglia fa Con questi Dovremmo farcela No no Non questi Con questi Dovremmo farcela In teoria Ecco Ha finito Perfetto Uno E uno Bene Io spero Di farcela Con tutti Sti cavetti Perché se no Siamo messi Maluccio Allora Uno Due Tre Quattro Ok Dobbiamo fare altri Quattro Non penso Che ce la facciamo Due Ce ne manca Un po' Di gomma In realtà Perché I cavi Li abbiamo Non abbiamo la gomma Giusto? No Non abbiamo la gomma Allora possiamo fare una cosa Andiamo a fare la nanna La nanna 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 Renna Oh Questa Rabbi Ok Allora Fatto questo Andiamo a prenderci I nostri rubber gum Ci prendiamo le nostre Ossicelle Le facciamo diventare Bommial E andiamo giù Tutrutu Tututu Tutututu 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 Mi dicono Che qua C'è ancora Delle gomma Interessante Interessanto Interessanto Vediamo un po' Qua nulla Qui si qui assolutamente si ok abbiamo ancora un po' di gomma qui niente qui nalla 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 ok basta ok facciamo così cos'è qua assolutamente nulla e qui niente qui oh qui si assolutamente si perfetto grazie vediamo se qua un albero un po' sfigatello però vabbè qua ne facciamo un altro quindi bagel bomb meal perfetto qua è cresciuto questo qui te se sei cresciuto mannaggia te mannaggia ok dammi un po' di gomma comunque con 7 pezzi dovremmo farcela un altro po' si è sfondato il nostro treat up noi siamo felici così ce ne torniamo a casuccia corri 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 dove cazzo sto andando di qua è l'entrata come sta andando più che altro la nostra no 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 non estrarre la tin estrai questa ok tin penso che ne abbiamo abbastanza qua siamo a posto qua a posto qui nulla qui va tranquillo qua sta ancora cuocendo benissimo benissimo allora dobbiamo fare ancora un po' di cavetti poi in teoria dovremmo ah si no 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 ok perfetto perfetto dai 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 estrai estrai il tutto thank you ok facciamo così giusto assolutamente si e ci facciamo questi quindi uno ok ne serve solo un altro ah no un altro li abbiamo ok 8 questi sono fatti allora ci manca 8 generatori dobbiamo fare quindi ci serve un bel po' di ferro ci servono 4 no no scusate 4 pile ok quindi 4 pile abbiamo la tin che va così 4 pile 4 pile 4 pile 4 pile cos'è che ci mancano i cavetti i cavetti i cavetti eccoli qua allora facciamo 4 pile abbiamo detto quindi tu e tu quindi 4 di queste e abbiamo fatto poi ci servono 12 pezzi di ferro cotto quindi aspettate che qua è scaduto il tempo ma no problem facciamo metà e più 1 perfetto 12 pezzi di ferro cotto poi ci serve questi messi così il vetro abbiamo del vetro cazzo abbiamo della sabbia sicuramente abbiamo della sabbia abbiamo della sabbia si dobbiamo cuocerla beh sprechiamo un pochino di cola la cuociamo con la fornace normale dai giusto per e facciamo giusto una cosa veloce veloce allora qua abbiamo detto dobbiamo fare i generatori giusto generatori quindi per i generatori abbiamo bisogno di questi questi e delle fornaci allora fornaci 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 cobblestone ah un po' di stone ce l'abbiamo perfetto dobbiamo fare 4 di queste fermi fermi tutti servono 4 di queste ok che vanno ricoperte di ferro e non ce la facciamo perché riusciamo a fare solo 2 vero vero assolutamente sì ci manca 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 il ferro che servono 10 pezzi cotti ah dove dai 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 mamma mia che mosceria ragazzi sto ste cose non vedo l'ora di potermi permettere e mantenere quelle è finito è finito è finito è finito è finito è finito abbiamo finito tutto abbiamo finito il colo oh dai beh eccio grazie ovviamente se lo voglio mettere là allora vai qua qua abbiamo ancora un po' qui perfetto dobbiamo cuocere questo mettiamo un po' a posto perché non ci sto capendo più nulla allora andiamo a mettere questi qui per fare i generatori i generatori generator generator ok allora vanno così praticamente questo qua è la cosa su quindi ebbene iniziamo a farli intanto pile 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 dove ho le pile ah qui buono perfetto allora una pila mi sono dimenticato di mettere l'altra ok tre di questi benissimo e siamo a posto questi li mettiamo qui con due di questi e abbiamo fatto due solar panel ci prendiamo questi cavi ok andiamo a mettere di qua facciamo uno e due tanto se non sono coperti da niente quindi così e così e no dannazione no dannazione no dannazione no 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 mi serve una wrench un electric wrench oh quella normale com'è che si faceva vediamo che serve a noi questa mi sembra si a bronze che si fa si fa si fa non mi ricordo mai come si fa si fa si fa con copper tin ce l'abbiamo copper già fatto si si tin pure ci da due pezzi ce ne serve un po' di più copper coppe cazzo non ho più copper non ho più tin davvero non ho più tin dove cazzo ho tutta la mia tin ah ah eh no volevo dire volevo dire ok fermi un attimo qua andiamo a fare intanto le fornaci le fornaci che abbiamo qui le facciamo così e così benissimo perfetto le andiamo a preparare qui in questo modo e qui in questo modo benissimo abbiamo i nostri generatori che è messi qua con eh questi co e questi qui e questi qui abbiamo i nostri solar panel eh ci serve del ferro che c'è del vetro che abbiamo qui il carbone smacerato l'abbiamo lì quindi abbiamo anche questi altri due ci servono dei cavetti nuovi assolutamente e il problema della ruencio in realtà non esiste in realtà non esiste in realtà non esiste vero? in realtà non esiste perché noi facciamo così guardate ho buttato un piccone ma lasciate stare prendiamo i nostri solar panel facciamo che uno lo mettiamo qui uno sfondiamo qua ci mettiamo qualcosa sotto tipo questo grazie salta ok mettiamo questo qui lasciamo questo qua e vai così oh allora abbiamo finalmente un po' di solar panel spero che la puntata non vi sia non vi abbia annoiato troppo qua vediamo un pochino come funziona la situazione senza generatore e ancora scende ma ci sono quanti macchinari in funzione? uno solo come mai scende così tanto? bro abbiamo 6 1 2 3 4 sono tutti funzionanti si 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 e si boh non so perché non funziona cioè sono davvero tanti dovrebbe andare almeno la fornace dovrebbe reggerla in teoria vabbè vediamo che cosa succede nei prossimi episodi comunque guys noi ci vediamo appunto nel prossimo episodio e nulla enjoy e crederne secondo voi lasciate tanti bei vi piace e tanti commentini bye bye ciao